Bentornati su CiproTV, mercoledì 27 marzo 2019, oggi è mercoledì, abbiamo un team WOD, il team composto da tre persone, unwrap 7 minuti, 50 push press, 50 push press e unwrap push press, poi 3 minuti di resti e ancora 7 minuti unwrap, 50 back rack lunges, 50 back rack lunges e unwrap back rack lunges e per concludere dopo un ulteriore riposo di 3 minuti, 7 minuti unwrap con 50 hand power cleans, 50 hand power cleans e unwrap hand power cleans, fesi e scalature come al solito sulla grafica qui di fianco, noi ci vediamo domani per un altro WOD insieme su CiproTV, buon divertimento e buona giornata!